Il treno regionale 17438, i treni tali europei, provenienti da Rimini e diretti a Bologna centrale, per le ore 6 e 39, in arrivo al binario 1. Attenzione, sbocca narsi dalla linea gialla, con il nastro, con il treno e il treno. Sbocca narsi dalla linea gialla, con il treno e il treno, con il treno e il treno. Sbocca narsi dalla linea gialla, con il treno e il treno, con il treno e il treno. Sbocca narsi dalla linea gialla, con il treno e il treno. Sbocca narsi dalla linea gialla, con il treno e il treno, con il treno e il treno e il treno, con il treno e il treno e il treno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attenzione, prendo un arrivo al binario 9 all'ortenarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.